Siamo a casa Cavazzini per la conferenza stampa di Vicino Lontano Digital che è la novità di quest'anno in cui si cercherà di trattare i temi legati al digitale e quindi all'innovazione in maniera un po' nuova se vogliamo, cercando di sporcarci le mani, cercando di andare nelle pratiche, nella comprensione delle pratiche di queste nuove tematiche che riguardano appunto il digitale ma riguardano soprattutto le nostre vite di tutti i giorni, dalla democrazia digitale all'uso degli strumenti per l'anonimato a un migliore uso dei social media per poter riuscire a usare i social media al meglio coniugandoli con la nostra privacy e il tutto correlato da presentazioni, eventi e workshop, quindi ci vediamo vicino a Lontano Digital. Grazie